Bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco per un brevissimo vlog della settimana Ho tre cose da dirvi, tre cose velocissime, la prima, la più importante, è che sono una merda Sì, avevo dato appuntamento a Tobomba7 su Skype domenica scorsa per discutere di alcune cose e gli ho tirato il pacco, me ne sono dimenticato, avrei mille scuse per questa cosa qua ma la verità è che ne sono dimenticato e posso scusarmi finché voglio, il fattaccio l'ho commesso quindi probabilmente lui si sarà disiscritto, starà facendo riti satanici per eliminarmi dalla faccia della terra mi dispiace e spero che riusciremo a sentirci un altro giorno poi, seconda cosa, la volpe sul tubo, volevo segnalarvi la sua iniziativa davvero descrivere il vostro canale, vi fa un po' di pubblicità, l'ha fatta anche a me vedere il mio canale sul video di qualcun altro è stato un misto di orgoglio e vergogna incredibile veramente è stata una cosa che vi ha scombusolato parecchio insomma sono contento e quindi ringrazio tantissimo la volpe sul tubo per questa opportunità per questo sostegno che mi sta dando ok, ultima cosa, vi aspetto domenica come al solito per una live su Dark Souls 2 vediamo, vediamo quante volte moriremo ciao, a domenica ciao